Tra le tante novità del catalogo Olimpia per il 2020, in Campo Mountain ci sono anche le nuove livree per le conosciutissime Front F1 e Iron, nonché per la biammortizzata F1 XN che declina in versione più economica gli stessi principi costruttivi della top di gamma F1 X. Anche su F1 ed F1 XN, oltre che per Iron, siamo andati a lavorare questa volta non sul telaio ma semplicemente sulle grafiche. A dire la verità, su F1 la grafica è rimasta esattamente la stessa 2019, abbiamo semplicemente creato delle nuove proposte a livello cromatico, quindi quest'anno questa versione grigio chiaro e una versione nera con il verde per quanto riguarda F1 che ovviamente ha mantenuto gli stessi contenuti tecnici della scorsa stagione ma che presenta tutti i nuovi allestimenti al pari della F1 X. Mentre per quanto riguarda F1 X, anche qui abbiamo mantenuto gli stessi contenuti tecnici della precedente stagione, quindi un Torai T800 con una tecnica di costruttiva monoscocca tradizionale. Abbiamo inserito anche qui l'ammortizzatore Fox, bloccabile al manubrio assieme alla forcella, in tutti i modelli. E' presentato queste due nuove colorazioni con un grigio bianco e un nero arancio che appunto sono andate un po' ad impreziosire il modello rispetto alla precedente versione.